Il primo migliore di Sicilio Poffa, a vincere tuttrista e per la Cristina, va a vincere per la terza volta il trattoreo a Stratomiglia con la mano finita e la prossima di Tocca nel mondo, e lei, la vecchia di Sicilio, la vincese, la nenne, forza! Grazie a tutti! Grazie a tutti!